Atmosfera caldissima alpineta per Amsterdam Nikol Team partita valida per il ritorno dei quarti di finale del torneo Master League L'andata è finita 12 a 5 per Nikol Team Vediamo come è andata a finire Invece la sfida di ritorno parte fortissimo La formazione dell'Amsterdam con la rete subito Il primo minuto di Campolongo che sblocca il risultato Poi il calcio di rigore con Giardullo che non sbaglia Amsterdam è una macchina Nikol deve rimontare tantissime reti Giardullo subito dopo il rigore segna un'altra rete 3 a 0 fulminio da parte di Amsterdam Qui vediamo un'altra occasione per il numero 10 ma la palla sfiora il palo Poco dopo il calcio di pulizione da lontano Palla raso terra nell'angolino Amsterdam non sbaglia Ancora una volta un gol da parte degli azzurri Reagisce Allocca che prova a risvegliare i suoi compagni Ma bravo il portiere dipinto a mettere in corner Nikol Team sempre con Allocca in profondità La palla per il numero 9 Nevola che però sbaglia A tu per tu con il portiere Il contropiede vincente e arriva il sesto gol dell'Amsterdam Che ormai ha riaperto la sfida con Nikol Team Poi il golasso da parte di Sorrentino Palla sotto la traversa e quindi Nikol Team ancora in vita Nel finale Nikol cerca di raccorciare il distacco Per centrare la semifinale La partita è terminata in anticipo Sospesa a causa di un grave infortunio Alpineta è finita Amsterdam 6 Nikol Team 1 PRABIN-依asonable PRABIN-依 kaikki